Oggi incontriamo Etafano Brothers, duo comico che impazza sul web. Le vostre parodie sono sempre un successo. L'ultima, il Bunga Bunga. Ma che cos'è questo Bunga Bunga? Sì, il Bunga Bunga è un ballo, una pratica, un rito propensatorio, un'introspettiva. Noi ci muoviamo sempre in ambito culturale, molto cool, poco naturale. Bunga Bunga è la trilogia? Sì, chiude la trilogia su Papi, su Silvio, che lui quando finirà di fare la politica già si è prenotato, sarà il terzo Tafano, quindi uno scoop che vogliamo anticipare. E quindi abbiamo chiuso la trilogia. Però, siccome abbiamo visto che è molto carico per ora, Silvio, dà molti stimo, secondo me ci sarà un addendum a questa trilogia. Sicura un addendum. Un addendum. Un addendum, è un'aggiunta, capito? Io ho studiato lui purtroppo. Una postilla, un appendice. Ce l'hanno tutti con Papi. Volete dire qualcosa? Che messaggio volete lanciarvi a parte una richiesta d'adozione? Io voglio dire una cosa. Cioè, tutti parlano male. Però immaginatevi se non ci fosse stato lui. Cioè, di che cosa si sarebbe parlato nel bar? Di che cosa? Di donne? Sempre la solita donna. Tristezza. Sarebbe stata la tristezza. Di solito calcio? No. Cioè, invece uno entra al bar e parla di queste... Delle protezze di Papi. Delle protezze di Papi. È normale. Cioè, bisogna... Noi lo facciamo con affetto. Questo lo vogliamo dire pubblicamente. Quindi, noi vogliamo che tutti abbiano un senso di affetto nei suoi confronti. Perché lui scherza, lo fa per ridere, così. Cioè, quando dice meglio essere frosci che gay... No, aspetta, com'era? Una cosa del genere. Cioè, lo dice per ridere. Cioè, non è che lo dice così. Cioè, per scherzare. È un burlone, un burlone. Infatti abbiamo in gandiere un libro che stiamo... Pubblicheremo, non so quando finirà il Papi. Si intitolerà Le minchiate di Papi. Dove raccogliamo tutte le chicche o le checche di Papi. La trilogia portata anche nelle piazze con il vostro spettacolo, come le bestie Circus Show. Sì, come bestie Circus Show, che è uno spettacolo composto da molti elementi. Abbiamo una band di otto elementi che sono in merce fresca e una magnifica presentatrice che è Roberta Curato. Lo sono tutti artisti, veramente tutti siciliani, ci tengo a dirlo. È uno spettacolo che gira attorno al circo, quello che è il circo. E in un certo senso è un po' quello che è l'Italia, però. Un grande circo, una vinghiata, ho detto, vabbè, comunque. Vabbè, con le altre. Si dice che uno dei segreti che è successo con le donne sia farle sorridere. Devo immaginare che voi siate corteggiatissimi. Con me ridono, proprio, no? Sorridono. Appena arrivano risate che si fanno. No, perché se fosse così, praticamente, la viste una via di... Cioè, donne, ma non è così. Ma anche perché noi siamo entrati nel mondo dello spettacolo perché ci dicevano che appena voi cominciate a fare concerti in giro, donne, femmine, niente, niente. Vuol dire che ancora non si sono accorti di noi, ma noi siamo duri... Cioè, piano piano, come dicono in Veneto, con la minuteggia, piano piano riusciremo anche. Anche perché anche le ragazze che vengono a fare, per esempio, che vogliono partecipare allo spettacolo, ai video, noi glielo diciamo. Ragazze, prima di entrare nel mondo dello spettacolo, dovete lasciare che il mondo dello spettacolo entri in voi. Quindi, ecco. No? È dura, è dura, sì. È dura, è dura. Il mondo dello spettacolo è molto duro. Chi la dura però la vince. La vince, sì. Noi stiamo ad essere stravincenti, quindi... Un saluto per Blog Sicilia. Un bacio a Blog Sicilia. Erano tre comunque. Ma lei glielo diamo. Almeno questo. iscriviti al nostro canale.